Amici di Vedi in Vino, ciao! Siamo qui con Filippo per parlarvi di questo meraviglioso ribolla gialla, un 2011 di Primozic Friulano, 12 gradi. Filippo andiamo? Allora, giallo, questo è un giallo non dorato, un giallo paglierino, si nota una limpidezza splendida, un vino che già da l'occhio ti invita a bere. Eh sì! Consistenza abbastanza leggera, 12 gradi, quindi gira molto velocemente nel bicchiere e c'è anche una bellissima etichetta, il vino che è un giallo che riporta alla ribolla gialla. Proviamo a sentire il naso? Andiamo al naso. Cosa ne dici? Beh, io direi molto intenso, un vino dai perfumi floreali, anche fruttati, addirittura sento del minerale che di solito si nota in bocca. Volendo entrare nello specifico, Christian, dei fiori, cosa provi? Margherita? Quasi qualcosa del genere. Bianco spino. Ottimo. E frutta grey. Beh, c'è una bella mela, la mela gialla di quelle di quelle mature. La golden. Esatto. La mela golden. E un po' di grugna anche. Sì, assolutamente. degustiamola. Beh, è bello secco, è fresco, è un vino molto elegante, incentrato più sulla piacevolezza di bevuta che sulla forza, già molto morbido. Questo finale un po' sapido si ricollega e le grumi che sentivamo. Molto piacevole, molto piacevole. Direi che temperatura di servizio di questo vino? 8, massimo 10 gradi. 8-10 gradi. E gli abbinamenti, ovviamente due cose un po' particolari. Allora, una è un po' particolare. Frittelle di riso fredde, quindi aperitivo. Ok. Ok, ottimo per l'aperitivo. E poi un bel crudo di pesce semplice, come potremmo farlo. Un filino d'olio extravergine. Fantastico. Crudità, olio extravergine. Mese di video in mio. Meraviglia. Cin cin. Massa se è buono.